Allora, coach Onelli, una settimana chiaramente per analizzare una sconfitta che con un avversario di aggiani ci può anche stare, ma chiaramente non ci sta quando la prestazione non è ottimale. In realtà la prestazione è stata buona per tre quarti di gara, veramente ottima, forse una delle migliori quest'anno, una grande difesa, in attacco eravamo molto fluidi, trovavamo soluzioni dappertutto, le abbiamo messi molto in difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo abbiamo cominciato a fare fatica sin dall'inizio, a mettere la palla dentro, avevamo dei cambi in meno, quindi stavamo facendo molta fatica anche in difesa, era molto dispendioso il tipo di difesa che stavamo facendo e sul finale siamo calati anche un pochettino lì, però chiaramente siamo stati 10 minuti senza segnare, questo contro la squadra campione d'Italia non te lo puoi permettere, il vitofobia è stato strepitoso in alcuni momenti, ma noi siamo stati comunque ingenui e abbiamo rivisto un po' i fantasmi di Pressano, di San Paolo, dove in certi momenti facevamo proprio fatica a segnare, quindi è andata così, però abbiamo fatto un grande passo in avanti nella fase d'attacco e quindi siamo fiduciosi comunque per le prossime gare. Ne mancano poche comunque? Sì, sì, ne mancano poche. Ci sarà la partita a Conversano quando ritorneremo dalla pausa e quella ci servirà per ruotare un pochettino la situazione dopo la pausa, per poi fare un buon sprint finale in casa contro Cologna e poi l'ultima gara a Siena. Sono due partite che possiamo vincere e quindi ci stiamo impegnando già da adesso per questo. Il Fondi già si è salvato, quindi hanno restaggiato lì a Fondi dopo il pari di Triesti rispetto al Ghede che addirittura lì ci ha vinto, no? Sì, sì, ma adesso sono... Ecco, questa è stata una gara un po' particolare, due squadre che avevano poco da chiedere. Trieste è ormai conscia della sua posizione, non può né andare le off né retrocedere, quindi insomma le motivazioni fanno il loro. Poi chiaramente erano due squadre rimaneggiate, situazioni diverse. Ciò non toglie che fare punti a Trieste è sempre difficilissimo in qualsiasi condizione, quindi saranno stati bravi loro. Non l'ho vista, ma immagino che siano stati bravi. Com'è la situazione della squadra in vista di questa... Chiaramente hai detto che c'è la pausa, però comunque a livello fisico come sta la squadra? Adesso stiamo cominciando a recuperare un po' di ragazzi, quindi approfittiamo chi ha degli infortuni si sta curando. Abbiamo quattro ragazzi nella nazionale di Biccio che si stanno allenando duramente, immagino, perché conosco Maratino, quindi so che saranno allenamenti duri, difficili, ma dove anche dovranno amalgamarsi. E niente, quindi non siamo tanti perché quando dai quattro elementi a questa nazionale chiaramente non siamo molti tra infortuni e questa cosa, però adesso ci riprendiamo intanto mentalmente e dalla prossima settimana anche fisicamente. Intanto comunque si allena, quindi nel discorso della convagazione dello stage, comunque sono impegnato, è chiaro che non fanno gli schermi che vuoi tu, fanno altre cose, però comunque si allenano. Sì, è un tipo di sport completamente diverso, ha poco a che fare con l'indoor. Diciamo che non è il massimo dare giocatori dall'indoor al Biccio durante un campionato in una fase così delicata, però è un giusto premio anche per loro che hanno dato tanto finora alla nostra causa, quindi l'abbiamo dato volentieri e penso che tutte le società che hanno fatto questa cosa lo abbiano fatto volentieri. Certo alcuni allenatori magari preferiscono averli sempre con sé, però è anche giusto questo e contribuire e dare una mano alla federazione in questi casi. Parliamo un attimo, facciamo il punto sulle giovanine, mi sembra che anche qui siamo alle fasi finali per la fase orologio. Sì, abbiamo il 10, l'ultima gara della fase orologio contro Donatello Roma, una partita che finora non ha dimostrato difficoltà particolari, ma non per presunzione, ma perché anche loro hanno iniziato da poco a giocare a palla a mano. È una squadra molto tosta fisicamente, che ha delle lacune tecniche, ma noi ci impegneremo utilizzando tutti i ragazzi proprio in prospettiva futura, quindi daremo un minutaggio a tutti quanti in questa gara per cercare di dare loro l'esperienza giusta e sfruttarla nei momenti importanti magari delle finali nazionali o delle partite con le squadre campane che verranno. D'accordo, appuntamento alla vostra settimana per fare chiaramente ancora un quadro sulla situazione del GEDA Sporting Club. Arrivederci, adesso.